Mistici Sponsali di Franca Cornado Locuzioni successive al trattato Durante la Santa Messa, mentre il sacerdote volgendosi ai fedeli, teneva congiunte nelle mani le due parti dell'ostia magna, pronunciando su di esse le parole «Ecco l'Agnello di Dio!» «Vedi, le due parti dell'ostia rappresentano i mistici sposi, tenuti in pugno da me!» «Prega per i mistici sponsali!» 22.04.1971